a tutti ragazzi qui il vostro zanone nazionale siamo oggi ritornati con un nuovo video due intro in una settimana un avvenimento più unico che è raro per la prima volta sul canale con fifa bingo fc bingo non so come si chiama il video vediamo un format che io volevo fare da molto tempo in realtà io seguivo i vecchi non so vi ricordate i j3 cap gun tom diciamo sono coloro che hanno creato la serie io ho chiesto anche il permesso ma non mi hanno minimamente risposto quindi ho deciso di io incare la serie come hanno fatto tutti nel mondo ovvero non so manco se gli hanno provato a chiedere il permesso hanno semplicemente è una serie molto figa ragazzi fondamentalmente funziona come il bingo soltanto con i tacchi di fifa ovvero c'è la sfida in questo caso saremo io contro gianmarco cosa che probabilmente faremo con cadenza mensile ovvero ogni mese con faremo un fifa bingo poi io volevo farlo anche magari con altri ospiti lo farò comunque o col fazzone col maestro con manuxo e con yoshino con chiunque voglia partecipare comunque io sono aperto a qualsiasi collaborazione perché secondo me è una serie molto bella torneranno ovviamente poi anche squad beer del showdown diciamo che voglio riprendere a fare roba figa bei format su fifa non miei che ho rubato però ragazzi l'onestà intellettuale è la prima cosa io per questo primo episodio di un fifa di fifa bingo vi chiedo la bellezza dei 50 mila like considerando che settimana scorsa ho chiesto i like e mi avete ovviamente come sempre stupito da che ne ho chiesti 25 stiamo oltre i 40 per questo fifa bingo secondo me arrivare a 50 sarà una bagianata bro facilissimo divertitevi e le regole credo di averle spiegato all'inizio poi vedrete la cartella vedrete tutto successo penso il panico su questo episodio molto divertente spero vi piaccia fatemelo sapere con un commento se vi piace siete eccitati per queste serie che continueremo e cercheremo di portare avanti e su fc mettete un bel mi piace mi raccomando godetevi il video ragazzi dov'è gianmarco tocco vuole venire tutti in spicco oppure la stempiatura non fa più entrare nel ts meanwhile gli dico porco dio fammi le grafiche per stasera mi firmo i fastissi e faccio io le grafiche le grafiche ma che cazzo è ma facevo meglio io faccio meglio le grafiche io quando fammi le cose e le reaction alle partite e certo però ovviamente non stacchiamo capito c'è in senso tu trovi i tuoi io trovo i miei e chi completa prima la cartella vince quanti denari hai messo te metto 3 piotte dai mi tengo basso poi se nel caso devo riaggiungo io ho messo 84 mila fifa points per carità ma visto che abbiamo fatto che chi finisce prima c'è nel senso la paura mia è che tanto ce devo arrivare fuori a qua somma all'incirca perché eh però magari con 3 piotte c'è caso che ho famo eh il fatto è che se finisci prima tu tipo cioè amen è finito il gioco capito quanto vuoi mettere di pepe? quello che ti pare a te quanto sub vabbè dai eh ci stiamo allora noi faremo questo fifa bingo ovviamente aprendo soltanto i 7 e 5 come vedete c'è la cartella sullo schermo dobbiamo completare ogni singola cosa di quella cartella il primo ovviamente che completa tutto fa bingo e ogni volta che viene completato uno ok una delle nove cose disponibili tu puoi aprire un pacchetto promo che ti aiuterà ovviamente poi nel completamento anche degli altri capito però il promo è come se fosse il bonussello alla fine no? è certo perché te può bustare a trovare qualcosa però possiamo aprire solo i 3 e 50 capito? allora 7 walkout facili 7 86 più fondamentalmente oppure if 84 più o evento 84 più 3 della stessa nazione già mo significa 3 giocatori della stessa nazione in un pacco solo ok poi vabbè 3 carte speciali che possono essere sia un if scrausi o quelle dell'evento o quello che cazzo troviamo 1 89 più quindi comunque che si applica ovviamente al walkout è una cosa in più 10 pelatoni 10 pelati già mo ma io posso partire da 9 eh? eh perché? perché ce so io già in 6 bravo però vedi che allora pure tu dici la stessa cosa io ho detto che chiunque non abbia accettato il fatto di diventare pelato viene contato come pelato tipo Mkhitaryan ah ok io direi deve fare tipo a boccia però capito? e anche gli allenatori ah ok un perfect link che significa stessa nazione stessa squadra non lo stesso pacco ne so trovi cristante se nel pacco c'è pure mancini ti tiri una sega va bene ok poi chiaramente cristante 25 83 più e 3 walkout donne vabbè tanto io solo quelli ho visto cioè letteralmente raga spero spero vi piaccia sto contenuto io da una vita che volevo che volevo portare una una bingata pazza l'ho aperto solo un pacchettino e mi volevo mettere l'uomo che mi portava fortuna a destra ah vai 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 c'ha ragione faccio anch'io faccio anch'io io ho capito anche come è walkout eh già mo in realtà io so studiato eh oh porco dio porco dio non mi è dedicato la domperato eh sì e che devo mettere il pacco capente a cazzo dei cani così pareco no way cazzo di merda veramente l'odio l'odio porco dio oggi dicevierà completamente per culo peggio dell'altri giorni secondo me quando vai perfetto fa il count 3 2 1 vai and we are off bocca al lupo dammi subito un ecco lo avevamo chiamato Italia Asa Inter me ci metti ma che è barella oh Di Marco non c'è può sta barella io ho trovato fratesi già io già speravo Allora, Di Marco il capello ce l'ha Non so se gli hai visto il dietro Il dietro a Di Marco è importante È vero, il dietro a Di Marco è pelato Io sto al primo pelato già mo Ho già trovato un pelato Secco Fofana, pare il maestro Abbronzato, però pare il maestro Grave Mamma che schifo, via Next, next Italia, persino destro Allora su Però questo è il pelato No, non li contamo i rasati Contammo i pelati a boccia No, i pelati a boccia, sì Ok, ok, ok Perfetto, questo è rasato ragazzi Chi è lo? No, sì, niente, è una donna Che figura, ci mancherebbe altra Ah, io ho trovato pure la mia prima bandiera 1,83 più Ma fammo che me li segno, va, un pelato C'è i capelli ancora C'è rimasto un collato, c'è rimasto Di Marco No, nemmeno Com'è 88? Hai trovato Di Marco 88 Oh, buono Ah, l'ha scartato pure l'88 Come l'hai scartato? No, leva No, dai Bocco Dio Oddio, paligna 83, è vero 2,83 più Madonna ragazzi Cioè, eh frate Non è facile No, no, non è facile Regà, no Non è facile per niente Dai, ma ragazzi Ma non ho trovato un pelato ancora Un altro 83 più Buono Stama a tre Ah, Yang ho trovato prima Era pelato Abbiamo il primo walkout C'è trovato Carne di Cobble Buono, io sto aspettando 83 più A parte il walkout Ma non sembra voler arrivare Porco Dio Ci sto a pensare A quello che devo vedere Pelato Vabbè, l'altro pelato Due pelati Ma infatti Ma i pelati Cioè, frate Ma che difficoltà c'è sto Avere Ma com'è possibile 83 più Oh, walkout ancora Oddio, dammi lui No, non è walkout Regà, mi sei controllato Ma regà, non è walkout Ma io non me lo devo vedere Tutorial mio No, di che è pelato No, oddio, aspevo Sai che mi sa che è tipo Una mezza palla da bowling La testa di indicato Ah, bro Di che è pelato fracico Forse questo 83 E passa No, Avers Mamma mia A me la batte, frate Pelato in culo A me la batte, ragazzi Company Company è pelato Qua c'ha il cappello Dentro alla cosa Company è una palla Da bowling Ma perché la carta Dell'allenatore C'ha il cappello No, no, dai Vale come è pelato Vale come è pelato Te lo do a buono Oddio Mancini 83 più E sotto c'è sta Brian E quando c'è sta Quei fio di una mignotta 7 83 più Volà A Walsberg Un altro 83 più Buono Oppure spizzi in grillo Ma se bandiere In realtà Se io sto a 8 Porco Dio Quanti giocatori Non ci posso credere C'ho avuto sto pacco Da 7 e 5 Già mo ci stanno dentro 8 giocatori Due spagnoli Non c'è il terzo Non c'è Rajkovic è pelato Come la merda bro È uno che Non l'ha ancora accettato Dertutto Capito che te voglio dire Wissa Mamma mia Quanto è pelato Sto ragazzo Gavi 83 più E stiamo a 9 Quanti cazzo Stai a 9 83 più Te Sta a volare E qui lo sai Che è un walk out Donna Eh si brother Fratei io sto già a 2 walk out Uno donna però Uno donna Dai io in realtà Con il walk out donna Al momento Sto soddisfatto Manco l'avevo visto Quindi figurate Mesa 5 83 più Un walk out Uno donna Giammo La mia prima carta speciale Un grande giocatore Della UEFA Champions League Machado Ah regà è pelato pure Oh 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 De Dubek Doppio pelato in un pacco Dupè E NUHM Oh questi sono due pelati eh Doppio pelato In giocabile In giocabile Il doppio pelato Regà Ermi non è pelato però Giammo Dico C'ha Oh ammazza Stiamo a 12 83 più Oh Mi sa che era walk out Non mi importa Ermi è walk out questo Sì sì Work out che gioca a Tolosa Sì sì Sto già là Questo è walk out Abugalla Beh ma sei un play A bollo Walk out Donna Mi manca una donna walk out eh No Giammo Mi sei bloccato il gioco Mi tocca riavvia Buonissimo Porco Dio Costa Rica Oh oh Work out Eeeh Navas Questo No è 85 Pugliadera pelato in culo Regà Sei Germania Italia Inghilterra Niente il cazzo Che palle Mi devo alzare il capello Dai devo far vedere la steppia Va vedere la steppia Che funziona come in macumba Non era pelato Se c'ha il triangolo in testa Che gli spawna Nero zio porco Dio che mi date Ter pelato a me Se considerate quelli pelati No frate No Ervar Ervar Su Su cui Gli adeghe M'hanno fatto Conferma che non è pelato Ritorno a 5 Porco zio C'ha pure lui Il triangolo nero Sì ma Buonissimo Però frate Gli 83 Più Un altro Walk out Me lo può dare Che schifo Carlos Perez Chiudi applicazione Francia Atti Non capendo i walk out Sono sempre lì Oh però la casetta 83 Si Palason Che walk out No è pelato come la merda Già ma proprio Una cosa tipo incredibile Sono introvabile Una roba allucinante Ci stanno una maniera di persone Che non accettano Di non essere pelati Tu Giammo Pensa se tipo Cioè Completiamo tutto Cristante Ingiocabile 1000 euro Oh 4000 credili Oh Aspetami uno spagnolo Pellegrino Porco dio Poi dici Poi dici Frate Frate Essere un pochino così N'altro Ondica Sette pelati Perfect dove Babbi di minchia Perfect Deve essere stessa squadra Stessa nazionalità L'altro italiano Non ce voglio credere Grenier Grenier Allora Allora mo No parlamone R De Pau Allenatore dell'Olanda Questo ziccia Laureola C'ha C'ha il padre più air cut C'ha proprio due capelli ai lati Ma sopra è proprio pelato Completamente Conta com'è pelato bro Ma va contamolo come Buono Buonissimo Ah rega Raskovic L'avevamo contato com'è pelato O no L'avevamo contato com'è pelato Raskovic Eh rega Nove finestre Dio porco Ho dovuto chiudere Hai visto? La piazza Mamma mia Pep Guardiola Pelato come la morte Ma rega A me manca un pelato Già Ma come uno? Eh sì Un pelato mi manca Ho trovato i due Tempo che hai chiuso le finestre Eh ma porco di dio Guarda questo che Oh frate Questa è la definizione De triangolo Questo c'ha proprio il triangolo In testa già No E frate c'ha proprio Un triangolo in testa Frate Mamma mia Ho finito i pelati Guarda ma nel pick Non mi ha dato Ne un pelato Quindi rega Mettete un Tocca mettere la X a casa Io apro il mio primo promo Aprire 25.000 Che potenzialmente È quello che te può far fare Tre stessa nazione Me può far fare Tre stessa nazione Me può far fare Umber Perfect Link Cazzo Mi sa che Ma ha dato addirittura Walkout Figura te Ah bro Bernardo Silva Portacci Tu è di Chi te lo dice Giammo Io penso Il pacco Con più Nazionalità miste Della storia Dei pacchi Buonissimo Ottimo Ottimo Sì Ma di tutto c'era Stiamo a 17.83 Stiamo Ma no io sto a 10 E ecco lì Tre tedeschi Nel 7.5 Giammo Porco Dio Felkamp Zenter E Cerci Un demone Ingiocabile Signori Che gli devi fare Oh io sto A aprire il secondo promo Attenzione Eh ma serve Una carta speciale Un walkout Una roba Un cazzo Non abbiamo il perfect link Porco Giuda Per poco Cuore pazzo 83 Buono Ottimo Ottimo Buonissimo Ottimo Sì sì Mike Shaw Ci ha trovato Buonissimo Sì ma Iperadio Voglio aprire un Pro Uno Ah rega Del più coglione Mi ha dato Ma frate Ma è un play Ma no Non capisco Aver passato Una carriera A insultare Iei Ti adici Oggi Se c'era un giorno Che mi dovevano Far vincere A questo Posso aprire il promo Ragazzi Te prego Dammi Brian Cristante Non chiedo Mucio Non è walkout Chiaramente E' vero Facile Mette 100 De me E poi fa Chiamati Iei Cici Sotin C'hava ragione Zio porco Quando diceva Che gli facevano Trovare i giocatori All'altri Almusrati Questo è pelato Sì questo è pelato Dai Ducur no Sì sì Almusrati è pelato Già molto Sto a vedere È pelato È pelato No no È pelato Bro Mazza 85 Bro Stano a 23 Bucio Dai porco di Dio Dai porco Dio Dai Non trovo un 83 Non trovo un cazzo Non trovo nulla Se mi vado a vedere Gli altri pacco pin Che ho fatto Sono sicuro Che ci avevo Almeno un pelato a pacco Sicuro Sicuro Oddio Mamma mia Ho trovato un'altra volta Pop e completo Frate ma sono ingiocabile Tre walkout donna Completati Duarte pop Ho trovato Giammo Sei rovinato Eh Sei rovinato A me mi manca Un 83 E un walkout E ho completato Carte speciali Perfect link E cristante Sì Ho completato gli 83 Con Smalling Nel promo Allucinante Eh raga Devi pierre via Già Ti dico Non sto Andando manco Troppo lento Non so se questo È pelato Non mi vede Sì Giammo Sì 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 Perfect link Eleni Leti E Alejandra Bernabè Pure che donne Hai fatto L'ho fatto Come donne L'ho fatto Porco Giuda Frate Eh ma Tatti il problema Giammo Quale sarà Le carte speciali Farebbe più rite cristante Cristante Io c'ho l'ultimo Cioè io c'ho un altro promo Che è quello Con il perfect link Ovviamente non è in cazzo Oddio no È questo È lui È Raskovic Avevi considerato pelato o no? Sì Raskovic sì Pelato già Un promo Allora qui tocca che stai attento Qui tocca che studi Mira dai Famo se sta risata Eh io l'altro sì Ce l'ho per gli 83 Quindi c'ho un altro promo Che è per gli 83 Manca un workout Me sa 2 4 6 6 1 Aperto per sbaglio Alex Oh frate Te pare che non c'è Stanno due inglesi Eh La te serve Quello È vero Altri due inglesi sotto C'hai Che arrivo pure in inglese In inglese Liverpool Tre inglesi Tre inglesi Buono Tre inglesi Quindi c'avemo un altro promo 4 Vabbè ci fanno un cazzo E il problema è che non c'è sta manco un perfect link Diciamo non so se esulta Ho trovato la mia seconda carta speciale Che hai trovato? Bonucci Bonucci Eh sì Io ho completato pure il walk out E io sto apri l'ultimo promo Che è l'ultimo promo? Cioè sto apri un altro promo È letteralmente il mio account Cioè io quando apro l'arte Trovo sempre qualcosa Ah io adesso sto in quella situazione già Alla ricerca di Brian Cristante Mi manca una carta speciale Ma io frate Adesso Cioè se sta freschi qui Facci vedere Ma li vedo pure io Li vedo Lei che devi vedere tanto Devi vedere se ho le stemba Dalla squadra È lo stesso Ma come fai a me C'è tutti sti problemi Mancano 3,83 83 83 bronzo vince Oh doppio 83 Una pack Nice Piccolo sbaggamento Dai 1,83 Ti prego 1,83 1 1 Gameno Switch Ma questo Ma cazzo Ma cazzo Ma fa Dici 85 Che la porto più Arapino Vabbè per 85 Hai fatto Sì 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 E qui prega Perfect Link Roba del genere Io ho trovato Per forza Nel 350 Ah no Nel vero Io ho trovato Ah sì sì Eh vabbè Nel 350 È il laboratorio Però eh Oh walkout Bellingham Oh bello Oh ma quanto costa Bellingham Un centino Eh un centino Oh no Oddio Serie A Gollini sottile Fiorentina Porco Dio Napoli Frate è finita Non ho fatto Perfect Link qua Niente Letteralmente addio Perfect Link Sarebbe Stessa squadra Stessa Oh Walkout Donna Da Champions Oh no 5 workout 2 donne E la carta speciale 87 Donna Da Champions Porco Dio Che svolta Buonissimo Ma se vende pure No Purtroppo la carta È un po' brutta Diciamo io vedendo Come sta andando Spera di trovare Cristante Spera di trovare Cristante È introvabile Dimmi che walkout 83 Porca madonna Porca Porca madonna Cioè Porca la madonna Ah già mola Rapino però 85 Erano due donne Rapino Devono contare Non devono contare Rapino No no Questo problema Non vale Questo problema Non vale Non vale Allora siete Rincoglioni Di babbi Di minchia Figli di puttana Amirco Svegliani Mi fai passare Per giuventino Mi fai passare Porca oddio Che è Cristante È sparito Già È sparito Pensate 57.000 FIFA points A cercare Cristante Poi mi sento male Oh walkout Chi t'ha dato Odegaard Bono Bono Ce l'hai Sei walkout Sei walkout E due walkout donne Cioè potrei Con un walkout Donna Chiudo due cose Contemporaneamente Farebbe incredibile No Eh sì Ho chiuso le carte speciali Lo sapevo che andava a finire così Lo sai qual è il problema Non tocca Continua a spennare i soldi Perché devo trovare Cristante No sì Perché lo troviamo nel promo Porco dio C'è il culo in faccia Ma che pena Era manco facile Cioè com'è possibile Che abbiamo lasciato così tanto Cristante nel promo voglio Non voglio nient'altro Non c'è sta Tanto tu danno il prossimo pacco GT dai Brian se stiamo a giocare a 100 sub Che riguardano a 4 piotte Io non lo so se è chiaro Io ho messo il santino di Brian Che regge il cartellone Con Perdonami ma ciò l'amante Diciamo Non vale niente Per la sfida Perché ormai l'ho fatto Ma ho appena trovato Openda Dalla Champions League 270k Costa Sì frate Ma c'hai C'hai veramente C'hai il culo in faccia Porco dio Che succede Oggi li apro tutti Quei cinque A prescinde Stramente Stramente oggi Proprio precisamente oggi Cioè tipo Oh io Te lo giuro porco dio Io da quando esce del gioco Non trovo un cazzo Comunque se va così Già ma famolo ogni giorno FIFA bingo Ogni giorno Tipo qualche Apri i pacchi Poi per 10 minuti Potremmo farlo una volta Una volta al mese Come faccio il torneo Videogiochistico Potremmo fare una volta al mese Il FIFA bingo Bello Se avessi messo Spizzing Trova spizzing Ah la prossima Il prossimo FIFA bingo Regà già segnatevelo Uno è il trova spizzing grillo Non lo troveremo mai Regà I capelli di questo Sono palesemente in PNG No Questo è pelato E c'ha PNG Di capelli dietro Perché è incredibile Perfectly In un pacco normale No way Oh mio dio Shouty a me De Jong Eccolo Dio porco Te sei sbaggato Te sei sbaggato Ma apro un promo E ce trovo un walk out Così Donna pure ce lo trovo Macedonia Ma che cazzo sei Ando nova Ma chi è Ter Stegen Ma pensa Io un altro 89 Io due 89 oggi Tanto non l'89 più Ma qua non lo trovo Walk out De Jong Buono 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 aspetta che trovo Un attimino Messi Eccolo E' provo da 25.000 Mi sa che è work out Ma chi mi Ma chi No è questa è No mi sa che Ah frate è quello del Bayern Alzi prega Per Cristante E no frate Non ci sta Ma tu non sai che ho dato il 5 a Brian Al concerto di Travis Scott Stavo al concerto di Travis Il grande Brian Insieme al Sharawi E Tami Mi Abram Sono andato lì Ho dato il 5 a Tami Ho fatto Richiappa De Tami Lui mi fa Grazie Amico E Ma Cioè già mo ho trovato Un doppio Cioè ho trovato un doppio walk out In un 7.5 Ma che stai a dire L'ho pure schippato Volete vedere una cosa incredibile Questa è pazzesca però Questa è rara Questa è rara da vedere Se adesso io faccio Vabbè sai Non c'è zano Questo non vale E io mo trovo un walk out Donna Fa troppo ridere questa Troppo la vita Eccomi In generale Eccolo Oh If Occhio Che comunque fa troppo ride È incredibile Ha detto Fate finta che questo non varrebbe Perché magari non c'è zano Quando l'ho aperta E ho trovato comunque una carta Che mi serviva No vale vale Brian Porco dio Quando ti vedo la prossima volta Invece datti la mano Porco dio Ti prendo l'uccello E te lo succhio Che dici Qui frate Tocca inizia a sperare Che zano trova cristante Sennò qui vola una piotta Ogni bo 20 minuti Eeeh Pagiorre Pagiorre È dalla svoltata frate E si leva tre walk out Donne Mo ti prego Mo mi apro 25.000 Mi dai un walk out No mi dai un Neanche l'89 Più Mi dai UEFA Champions League No niente Tocca speran Brian cristante Buono Cristante c'è Non c'è sta cristante Cioè è proprio È assurdo Oddio ti prego Dimmi che era Rashford Per il tumore del girardino Ho trovato Oh Ehi Ashford Porco Dio Bello Sono tipo 180.000 Eh si pulito È un demone ingiocabile Brian cristante Brian cristante Il Milan twitter Porco Dio Oh Raffaele Bello Brian ti prego Porca madre Oh io sto a 28.000 FIFA Points Oh Oh Gay d'oro Ho trovato Tra te è fortissima Gay oro Si vende Oh 100k No ma che Se mi nonno 50k Ma è forte Forte vera Gay oro Se vuoi se buttavo Sui promo Vai Brian Devi uscire da qui Ma che è Hai rissi la guarda Non lo so Mi hai trovato te Magari Ti da Ti da Da Brian Lo borca Io ho trovato Gaia Dai Brian Puttana Eva Almeno mi desse Tipo una carta Cioè Almeno mi desse Una carta speciale Non mi di Ah no Pensavo tonale Non avevo visto Che era olandese Un po' strano Sto tonale Io ho trovato Shesny Madonna frate Manco Walkout Trovo Manco io Io qua non walkout Kingsbury No frate Diego Iorento Ho trovato Ti rendi conto Bella Assurdo Porco Dio Non è walkout No Manca il mio questo Nagazato No Ha trovato lui Innominabile Gazza Zero walkout In questo Pai In questi pacchi Un altro non walkout Italia cdc Arsenal Giorgino Francia Dammi Mbappé Poi originariamente Loro lo fanno Tipo fratello Loro veramente Mettono Un euro Bello Griezmann Però No Il cartellino di Griezmann È meno costoso Dalla cartangame Praticamente Parco Dio La vero Sì Un ragazzo di special Oh Verde Bosnia Erzeko In ATT Ed in Zeko No Ed in Zeko Davvero Certo No È 88 È vero 88 Cazzo E magari c'è sotto Brian McCartney O portiere del Manchester City No Dai 88 Quell'altro scrive in chat Perfect link Devi morire Un altro workout 86 Zio porco Ho pulito però Ancunque Occhio È buono No ragazzi Hai terzo Di nuovo Dai Dai Regà Dai Almeno esce Ma Stai workout Per me No 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 Stai che è workout Gay Oro Oddio No Cioè 1600 euro Senza Brian Cristante Mi si è bloccato pure il gioco Mannaggia i santi Mannaggia A few moments later Per cazzo È un if Importante Niente Non è nemmeno Nemmeno walk out Non è Vansguard Non è nemmeno l'ombra Di Brian Cristante Io ho finito i 3.50 Te mi sai che ce n'è un altro Perché giustamente Vai Vedi che trovi Non è walk out Francia Terzino destro Chelsea Ci voglio creda Niente frate Cioè Ho finito pure sti 1600 Pia points De Brian Cristante Manco l'ombra Manco l'ombra Vabbè Cri Ti saluto che vado a farmi queste due Rations Ciao Giammone Poi le Le sabbette arrivano domani E fanno Non ti preoccupare Una volta al mese Se lo sdruncamo Porca madonna Ragazzi Ma siamo tutti d'accordo Che è impossibile Che Cristante Sia così Introvabile Mi dispiace dirti Che sei stato appena Scammato di 100 sub Ma le 100 sub Ma a parte che me le dà Chiaramente Gianmarco È una persona di parola Ma poi a parte tutto Mi sono divertito Una cifra Cioè È da una vita Che volevo fare Sto cazzo De FIFA Bingo E io Che volevo fare Che volevo fare Che volevo fare Che volevo fare Che volevo fare